Sono ore di attesa queste a Ginosa Marina, sono tutti con il fiato sospeso davanti alla diretta dal Parlamento dopo l'ennesimo invito a provvedere da parte dell'onorevole Ludovico Vico. Sulla questione ordinanza per la Puglia si esprime il sottosegretario all'ambiente Fanelli, Fabris interrompa lo sciopero della fame e dopo il silenzio, un silenzio che non promette nulla di buono. Ci aspettiamo che stamattina il governo, in corso di battito, risponda alle osservazioni fatte dai parlamentari con l'annuncio che l'ordinanza per la Puglia, quantomeno assuma un impegno preciso, stia per essere fatto. E con qualcosa di più concreto che non un generico appello a quelli che stanno facendo lo sciopero della fame di desistere perché questo fa male. Lo sciopero della fame è una forma di lotta, nessuno se la caverà così facilmente. Ore delicate, decisive, insomma, a Ginosa Marina. Un momento delicato, ho detto benissimo, qui c'è tanta gente che sta aspettando come se sta per arrivare un bambino, sono passati nove mesi, quindi la nascita di questa cosa dovrebbe avvenire. Ma purtroppo da quello che sentiamo ci sono dei segnali negativi.